Il mondo è sempre più diventato una scena, nel senso che è più importante quello che viene comunicato e trasmesso di quello che c'è, da un altro punto di vista è anche evidente che quello che c'è per girare presso le persone deve essere in qualche modo comunicato e trasmesso, ma insomma il peso è veramente dato alla dimensione dell'apparenza. Tutto viene anche direttamente progettato non tanto per essere l'oggetto d'uso, ma per essere l'oggetto di scena, come si dice l'oggetto di scena in teatro. Tutti gli oggetti tendono a venire rappresentati in funzione del loro uso mediatico, anche gli oggetti d'uso.